Nome, signore? La vermicocca bianca. La vermicocca bianca? Sì, bianca. La vermicocca bianca, diciamo, quando sono matura, bianca. Vedova. Vedova. Grasso. Vedova, diciamo lei, no? Sì. Vabbè, allora che è successo, signore, nella circostanza? Che cosa è successo? Signore, l'altra notte sono stata violentata da un brutto. C'è brutto, brutto? Brutto, brutto. Vabbè, dire brutto, brutto. Ho ripilato. Oh? Ho ripilato. C'è un violento, diciamo carnale. Sì, carnusa. Una persona brutta. Brutto, 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 brutto. Un momento, signore, che... Sì? Oh, mio fratello. Sta di pattuglia. Veramente. Vabbè, sulle strade della California. E sono qui. Sono proprio con la vittima. Vabbè, stavo proprio facendo l'elenco. È brutto? E allora sta in mezzo. Tutti e tre. Portateli su. Uno dei tre sarà. Forza, fratello. Vai. Mio fratello di pattuglia. Sì. Hanno preso tre uomini brutti. Ma, ma, ma. Uno dei tre sta. Speriamo che in mezzo stai con beniglenti, signore. Stanno salendo, signore, ladra. Grazie, comunque. Ciao. Ciao. Ma la faccia! Ma la faccia! Ma la faccia! Ma la faccia! Forza! Colleggia, un po' di me. E' bello e bello. E' fuori. Forza, costante e cospetto. Beh! Questi due cose tristi che ovviamente colpiscono la gente, diciamo... Sì, c'è una cosa troppo. Scusa, collega un attimo. Sì, dove? Avevo un dubbio. Risolto. E allora, ecco la gentaglia che ci circonda, diciamo. Per caso sei stato tu? Sono innocente, marescia. Innocente, innocente. Hai violentato tu la signora? C'è io. No. Allora sei stato tu? Marescia, io sono di innocente. Ma la mi sta la signora, come ha? E dite che c'è la galera, eh? E c'è me la praga, ma... Vabbè, signora, riconosci per caso nei tre soggetti il colpevole? Sì. 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 Io lo individuerei personalmente precisamente? Sì. Se questi signori mi usassero la cortesia... Sì. ...di violentarmi a turno. Con discrezione. Ma che? Si può fare. Sì. Darda a mangiare gli affamati. Darda a bere la seta. Sì. 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 A lucia di Pellegrini. E vestirli niente. Vestirli? Niente. Clagno.